Perché anche prima quando parliamo di bambini, i bambini piccoli, sono 30 quelli che sono arrivati dall'inizio di quest'anno che non dovevano fare come ho detto mille volte neanche quella attraversata, quella attraversata dove muore troppa gente ma muore con la speranza di venire anche in un posto che in realtà non c'è per cui noi andiamo a togliere le risorse agli italiani o agli stranieri che vivono già qua con la disoccupazione non riusciamo a dargli sussidi, abbiamo un welfare che li sta abbandonando tutti facciamo fare l'attraversata delle persone che poi dopo qua facciamo finire in mano alla criminalità organizzata per cui questo finto bonismo, questo dire ok vi prendiamo tutti per avere un'accoglienza che nuoce sia gli uni che gli altri non serve